In questo numero di monitor consiglio, competitività, via libera alle modifiche sulla legge per migliorare il sistema produttivo, cultura, teatri e spettacolo, modifica del testo unico regionale. Fusione dei comuni, Sillano e Giuncugnano hanno detto sì. Approvata a maggioranza con l'astenzione del nuovo centrodestra e Udc, la proposta di legge di sostegno alla competitività del sistema produttivo toscano. I punti cardine sono il sostegno alle start-up giovanili e all'imprenditoria femminile e ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità. Per quanto riguarda le start-up giovanili, i titolari non devono superare i 40 anni. Sono tra gli strumenti di aiuto messi in campo il microcredito per la creazione di imprese, i voucher per l'accesso ai servizi e le garanzie bancarie. Si prevede anche il recupero di edifici pubblici per le nuove imprese. In sede di esame del provvedimento si è inoltre deciso di ricorrere al fondo unico anche per il settore del commercio, del turismo e dei servizi. Cerchiamo con questi aggiustamenti di dare un maggiore sostegno alla competitività delle imprese toscane. Stiamo intervenendo sulla semplificazione e anche cercando di dare maggiore certezza alle imprese rispetto al percorso da fare, le procedure per ottenere finanziamenti. Abbiamo inserito nella legge sulla competitività le imprese giovanili, femminili e dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali. Insomma una legge che va a incentivare per la prima volta non solo ausili giustamente al sostegno al consumo e quant'altro ma a dire che chi crea nuove imprese la regione lo sostiene. Quindi la creazione di partite in funzione della lotta alla disoccupazione e allo sviluppo della Toscana. Per questo abbiamo fatto la favore. È una legge che eroga in modo indiscriminato e secondo me sarebbe molto meglio fare leggi generali che dicono si diminuiscono le tasse a determinati tipi di aziende oppure si diminuiscono i costi dell'energia oppure si aiutano con i confidi ma non andare a categorizzare donne, giovani, lavoratori. Alla fine la platea è il 100% e si aggiunge soltanto burocrazia e costi alle imprese. Credo che risponda alle necessità effettive che ci sono perché c'è una crisi drammatica come sappiamo. Quindi l'incentivazione ai giovani prevede un fondo unico per quanto riguarda il turismo, il commercio e le attività culturali. Anche questo è un fatto nuovo. Ripeto, è una buona legge, va applicata, va finanziata. Quindi attendiamo con fiducia che la giunta regionale la porti avanti con serietà e concretezza. Quindi dare più chiarezza perché si lasci meno discrezionalità interpretativa al presidente, all'assessore, ai dirigenti, a Gianluca Lazzari e quindi ci sia più certezza, più chiarezza e quindi una norma uguale per tutti. Perché non c'è niente di peggio che per qualcuno l'impresa è giovanile e per altri no. Stamattina sì e stasera si cambia idea. Con questa legge noi diciamo regole chiare. L'unico neo e l'unico articolo a cui abbiamo votato contro è quello che riguarda l'esperto contabile affinché vengano costituite queste nuove imprese e che segua comunque il lavoro di queste nuove imprese. Il resto dell'Europa si autocertifica, quindi le imprese si autocertificano invece noi abbiamo messo un balzello che secondo me potevamo evitare. Collegata alla proposta di legge è stata approvata anche una proposta di risoluzione con primo firmatario Nicola Nascosti di Forza Italia con cui si invita la giunta regionale a promuovere il ricorso al marchio di qualità da parte delle piccole e medie imprese. La risoluzione è stata approvata con la sola stenzione di Alberto Magnolfi, capogruppo del nuovo centrodestra. È stata approvata anche una mozione firmata da Nascosti di Forza Italia e da Pugnalini del PD con cui si invita la giunta ad elaborare un fondo di sostegno a progetti di autoimprenditorialità per artigiani, imprenditori e lavoratori colpiti dalla crisi con oltre 50 anni di età. Ci sono tutti gli elementi per poter guardare al futuro con una maggiore speranza. Non basta, c'è una risoluzione collegata che il Consiglio dovrebbe votare e che riguarda un maggior aiuto per lavoratori e imprenditori over 50 quando si trovano in difficoltà e quindi anche lì per fargli recuperare quella competitività che magari per effetto di innovazioni o d'altro hanno perduto. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge che adegua il testo unico della cultura alle disposizioni del decreto ministeriale dello scorso luglio. Il decreto stabilisce le condizioni per l'erogazione dei contributi statali, il cofinanziamento da parte degli enti locali o di altri enti pubblici che, nel caso dei teatri nazionali, deve essere pari a quello statale. Nel caso invece dei teatri di interesse culturale è sufficiente un cofinanziamento del 40% rispetto al contributo statale. Approvata sempre a maggioranza con i voti contrari di Forza Italia e Fratelli d'Italia anche una proposta di risoluzione presentata dalla Commissione Cultura in merito al sostegno alla Fondazione Teatro Metastasio di Prato. La risoluzione, dato il decreto del Ministero con la relativa nuova classifica dei teatri e considerate le modifiche al testo unico della cultura, impegna la Giunta a mantenere la propria presenza nella Fondazione Teatro Metastasio di Prato sostenendola nei percorsi necessari alla riclassificazione previsti dal decreto. Il metastasio non solo perché in realtà il Consiglio ha approvato anche una proposta di legge proposta dalla Giunta che era un semplice adeguamento alle disposizioni del nuovo decreto del Ministero con il quale si cambia sostanzialmente le definizioni. Cambiando la definizione esce per l'appunto la definizione teatro stabile e quindi in questo caso la Fondazione Teatro Metastasio di Prato che dovrà trasformarsi o in teatro nazionale o in teatro di rilevante interesse culturale. Ma esce solo come definizione, certamente non esce come rilevante istituzione culturale anche perché insieme alla proposta di legge il Consiglio ha approvato una risoluzione con la quale impegna la Giunta a mantenere la propria presenza dentro la Fondazione Metastasio e quindi anche assicurando che gli saranno necessari finanziamenti al funzionamento. Quindi su questo voglio essere chiaro. Cambia la legge ma non cambia certo l'impegno della Regione Toscana nei confronti del Metastasio e di tutte le altre prestigiose istituzioni culturali della nostra Regione. Contraria alla modifica Forza Italia e Fratelli d'Italia, a voto di astenzione del nuovo centrodestra e del consigliere Gabriele Chiurli del gruppo Misto. È venuta a meno una importante fusione o un consorzio. C'erano due opzioni, una iniziale che era l'incorporamento sostanzialmente da parte della pergoa del Metastasio oppure un consorzio fra i due teatri per far nascere un teatro nazionale che valorizzasse il teatro della Toscana. Ciò non è stato possibile, a nostro avviso, per tutta una serie di campanini locali. Questa risoluzione ribadisce in questo momento di difficoltà i finanziamenti della Regione per il Metastasio. Noi siamo contrari. Riteniamo da sempre, nella nostra posizione è chiara, che la Regione debba staccarsi da queste funzioni di aiuto che dà a tutta una serie di settori del mondo spettacolo e della cultura, ma che invece queste strutture, queste fondazioni, debbano vivere grazie alle loro forze, grazie ai rapporti con i privati e casomai grazie ai privati continuare poi a produrre cultura e spettacolo. No, la risoluzione è un contentino che viene dato a Metastasio e a Prato per far vedere che la Regione non se ne dimenticherà. Sta di fatto che si registra un arretramento rispetto a quello che è il quadro complessivo dell'offerta culturale e teatrale in Toscana. Metastasio è stato per molti anni l'unico vero teatro, grande teatro di prosa in Toscana e di produzione della prosa in Toscana. La Regione non può limitarsi ad approvare una risoluzione con la quale si impegna, come dire, ad occuparsene. Bisogna che se ne occupi veramente, anche perché vorrei ricordare che recentemente la Regione ha sostanzialmente abbandonato la camerata strumentale, cioè l'orchestra sinfonica di Prato, che pure è una realtà molto importante. Qui c'erano delle proposte di legge, noi su queste abbiamo votato contro, perché secondo noi è sbagliato l'approccio. Oggi come oggi si finanzia, si continua a finanziare l'offerta culturale. Quindi accade che ci sono fiumi di milioni di euro che vanno a iniziative culturali di cui nessuno se ne accorge, di cui nessuno sa niente, spesso di pessimo livello, magari solo perché sono amici dell'assessore di turno, e poi invece iniziative di eccellenza che attraggono pubblico che non ricevono un euro di finanziamento. Allora noi proponiamo di levare tutti i fondi pubblici alla cultura e creare un buono cultura, proporzionata al reddito, in cui ciascuno sceglie come spenderselo. Quindi le iniziative di eccellenza culturale avranno il finanziamento dei biglietti e il finanziamento pubblico. Le iniziative fatte da qualche fricchettone amico di partito che finora è sopravvissuto solo al finanziamento pubblico, chiuderanno. Qui si parla di una legge nazionale, quindi è un adeguamento. Certo è che il Presidente Rossi aveva detto, riguardo alla fusione tra il metastasio e la pergola, aveva detto che, visto il rifiuto che c'è stato, che non avrebbe più dato soldi della regione. Per cui mi domando io per quale motivo noi dobbiamo impegnare diversi soldi per salvare il maggio musicale fiorentino quando sappiamo che è un pozzo senza fondo e chiude sempre i conti rosso e non dobbiamo aiutare il metastasio. Il Consiglio regionale ha deliberato il nuovo status del Comune Sillano-Giuncugnano, nuova fusione tra i comuni. A Sillano, in provincia di Lucca, ha vinto il sì, con il 65,27% contro il 34,73% dei no. Simile risultato a Giuncugnano, 64,18% di sì e 35,82% di no. La Toscana incoraggia i processi di aggregazione che favoriscono una migliore capacità di azione e di governo delle autonomie locali. Nel 2013 si sono avute 14 fusioni che hanno prodotto 7 comuni. Noi pensiamo che le operazioni di fusione nate dal basso siano le cose più importanti perché testimoniano una necessità e una cultura che richiamerà sempre di più questo tipo di indirizzo. Mi sembra una dinamica positiva che la Regione ha supportato e che continua a supportare e che noi valutiamo positivamente. La prossima legislatura regionale vedrà i comuni e la Regione impegnati insieme sul fronte delle fusioni necessarie, non più volontarie, ma addirittura obbligatorie e stavolta senza incentivi. Quindi chi non l'ha fatto finora forse si troverà dopo a dover subire fusioni che potevano essere fatte prima su base volontaria e con incentivi interessanti. Grazie a tutti.